Usano la parola spregiudicatezza gli esponenti del PD locale nel definire l'atteggiamento del comune usato per allestire i palchi per gli eventi equilani, cantieri dell'immaginario in particolare, ma anche la perdonanza. Risorse ingenti hanno denunciato il segretario Nello Avellani con i consiglieri comunali Stefania Pezzopane e Stefano Palumbo e palchi messi dinanzi ai monumenti più importanti per mesi e mesi, vedi San Bernardino. Non si contestano gli eventi, questo lo hanno specificato, ma soprattutto per San Bernardino si scopre che il palco, allestito nel 2021 e poi nel 2023, non aveva neanche l'autorizzazione. Si sia dato sfogo a una spregiudicatezza nell'allestimento di questi eventi utilizzando risorse assurde, esagerate per i palchi e decidendo di appostare questi palchi in monumenti storici di grandissimo valore con un'escalation di aggravamenti di anno in anno. Quest'anno il palco di San Bernardino è per cinque mesi, per cinque mesi è precluso uno dei monumenti più belli della città. Non solo, facendo un accesso agli atti scopriamo delle ombre, scopriamo delle ombre per ammissione degli stessi dirigenti del comune, il palco di San Bernardino non è stato autorizzato né nel 2021 né nel 2023. Come hanno fatto ad affidare una ditta, una somma di un milione di euro quando non avevano ancora l'autorizzazione? Insomma ci sono ragioni importanti per portare tutto l'argomento in commissione di garanzia e per proporre un'interrogazione articolata perché riteniamo che si siano fatte delle cose che non potevano essere fatte.